Grazie Presidente, solo per dire che non so che piano industriale hanno letto perché nel piano industriale non si esalta gli inceneritori, viene citato in un caso come facendo un paragone, ma in realtà non si esalta affatto. Infatti c'è questo premesso in questo ordine del giorno che lo ripete, come l'ha detto la consigliera Baglio, in più pagine del piano industriale di Ama si esalta il ruolo degli inceneritori. Ripeto, noi non sappiamo cosa abbiamo letto, detto francamente anche per questo premesso noi non possiamo votare un ordine del giorno del genere, pertanto ci asteniamo. Grazie.